Relazioni mutate, diverso rapporto con l'ambiente, la consapevolezza di trovarsi in una fase di stallo, comunque tra un prima e un dopo. Come hanno vissuto i giovani quella complessa e inaspettata fase della vita di tutti coincisa con la pandemia e il lockdown? Se lo è chiesto, anzi lo ha domandato ai giovani il ricercatore Mauro Tuzzolino, autore di un e-book dal titolo I giovani e la crisi del covid-19, prove di ascolto diretto. Ne parliamo perché in pieno lockdown tra il 18 aprile e il 5 maggio l'autore ha proposto il questionario d'indagine ai giovani dai 15 ai 35 anni e il 41% del campione proviene proprio da Sondrio e provincia. Il professor Vittorio Loverso, docente dell'ITIS Mattei di Sondrio e i colleghi che hanno accolto la sua sollecitazione sono stati i promotori dell'iniziativa tra gli studenti e la risposta dei giovani è stata considerevole. E c'è stata un'adesione massiccia da parte di studenti che frequentano gli istituti superiori della provincia di Sondrio perché circa 200 questionari sono stati compilati in zona e questi 200 questionari sono andati a comporre circa il 41% del campione della ricerca. Il nord che viene indicato nell'ebook, nei vari diagrammi e nei vari grafici è sostanzialmente Sondrio e provincia, i ragazzi di giovani di Sondrio e della provincia. Lo studio fornisce un quadro interessante della percezione che i giovani hanno avuto e hanno dell'evento epocale che ci ha travolto. Interessante e anche curioso a partire dalla paura del contagio, di molto superiore tra i ragazzi del sud rispetto ai coetanei del nord. Non tanto inaspettatamente perché spesso ciò che non si conosce fa più paura, mentre il contatto diretto con le esperienze negative sicuramente fa vivere un approccio diverso. Giudizi positivi ma legati all'emergenza dei mesi di lockdown anche per la didattica a distanza. Giudicato positivamente ma come didattica dell'emergenza, cioè alla domanda se questa didattica a distanza potrà un giorno sostituire la didattica direzionale, la risposta è no. E no perché manca fondamentalmente la risposta che ha avuto maggiore percentuale, quella che riguarda la mancanza di relazione umana. Nelle settimane più drammatiche della pandemia i giovani hanno respirato l'emergenza, spesso provando da vicino la preoccupazione di avere un caro malato o addirittura mancato a causa del coronavirus. Questa situazione li ha tuttavia portati a farsi un'idea di come e quanto le istituzioni stessero fronteggiando la crisi covid-19. Circa il 71% ha grande fiducia nelle istituzioni locali, il comune, il sindaco, le regioni, l'Europa, l'Italia e questo è un dato positivo. La conferma arriva anche da Mauro Tuzzolino, autore dell'ebook. Mentre non stupisce il dato di grande fiducia nella scuola, nella sanità, nelle forze dell'ordine, nel volontariato, certamente stupisce la grande fiducia che i giovani danno in queste risposte che ci hanno fornito nei confronti proprio delle istituzioni democratiche, quindi nei confronti del comune, della regione, dello Stato e persino dell'Europa. Ma ciò per cui l'ebook di Tuzzolino lascia ben sperare è proprio la fotografia di come questa esperienza impensabile, anche soltanto 12 mesi fa, abbia lasciato in termini di visione del futuro nei più giovani. I ragazzi ritengono che c'è stato un prima e un dopo, che prima il futuro non era sicuramente roseo, ma come se l'epidemia fosse stata una sorta di occasione per cambiare in meglio il futuro nelle relazioni tra gli uomini e nelle relazioni tra uomo e ambiente.